Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Oggi raga faremo delle partite in sopravvivenza in due Ne faremo quattro e una in rapina E che dire, non mi spingo oltre e andiamo subito Comunque ragazzi, grazie mille per gli undici iscritti Grazie di cuore E comunque vi ricordo di iscrivervi al canale mio E iscrivervi pure a quello Dark Pork Che è mio fratello E un altro che si chiama Ve lo voglio dire proprio da lui Si chiama Yak Games Cioè si scrive Jack con la J J-A-C-K Staccato Games Games Se non lo trovate potete scrivere I due fratelli staccato Gigi Vabbè lo trovate E' un altro mio canale che ho creato Intanto ce l'avevo già però Lo facevo un po' di tempo fa però I video poi non li facevo più Infatti adesso dobbiamo arrivare almeno a undici iscritti Intanto qua ci vogliono massacrare Infatti ci massacrano Va bene ragazzi, quarto posto per un inizio Va benissimo, meno tre va bene Continuiamo comunque Spero che questa qui Cioè volevo andare subito direttamente all'altra però Ho avuto paura anche da pure quella città Qua però non volevo Dovrei fare quattro partite in questo caso da tre E una slapina Questa è la seconda? Questa qua si, la seconda Comunque ragazzi dovrei Non so però Forse Dovremmo arrivare alle 3500 Non so se ci riusciamo però Visto che ora Può essere però che ci riusciamo comunque Può essere Non lo so Non lo so di certo però Qualcosa di strano Cioè Che mi dice che Forse, forse, ma forse Ci riusciamo, ci riusciamo ad arrivare Tanta attenzione C'è un corvo dorato Che figata è il corvo dorato Mamma mia Ok, muore poi addirittura Uno E lì nasco io Attenzione Attenzione No, 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 no Via, 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 via Via, via Vengo lontana Ecco qua Oh 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 my god Oh Oh mio dio Vai via, vai via, vai via Mamma mia raga Che cosa ho fatto Che ho fatto Ecco però Va bene Terzi Era troppo Era difficile Era difficile Però comunque terzi Non so Non so Neanche io Quello che ho fatto Ma vabbè Comunque Il più uno Ok E ci riusciamo Direttamente Dalla prossima partita Terzi Dalla terza partita Vediamo Non credo che ci riusciamo Dalle 3500 Ci riusciremo Al prossimo video Ok Vediamo Subito Attenzione Ma dove sta il mio compagno Anzi Qual è il mio compagno Non ho visto niente Non mi ricordo Un cavolo di niente Perciò Vabbè Comunque Che raga Ci stanno massacrando Va bene Via Via Vai 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 Se n'è andata Se n'è andata Dai Dai Vai Ok Appena si rica Ok No Vabbè Io 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 Poi Era Il mio intento No Non so Cosa volevi fare Però Ok Meno male Cavolo 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 Che è No Bibi Non ce la fai con Bibi Ah si Bibi È troppo Troppo Forte Si Però Prima Quando È uscita Bibi Dicevano Che era Scarsa È vero Non lo so Non l'ho mai sentito No 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 Mai Comunque Se vedete Che lagga Dovete Scusarlo Pioggia Pioggia Ma non mi sta laggando Si Dico Se Si lagga Se lagga Oh my god Mi sento male Mi sento male Però Dai Non mi lasciano mai in pace Questi Ma che devo fare Non posso fare niente Vai Ok Vai via Anzi No Restai là No L'uomo L'uomo Se muore Muore Vai Vai Lo uccide quel pocio Lo uccide quel pocio Vai Bravo 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 Ha capito il gioco Ha capito il gioco Bravo ragazzo Ho capito Dai 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 Eh non va Non va Non va Eh vabbè raga Basta che lui sta a camper No Non deve stare camperato No no E anche un po' No guarda quante Ti provarci sono In modo uccidio Bravo Ok Gigi Gigi Bellissimo Sto respawn Eh già Bellissimo No ma te Non voglio che muori Perché Guardi coppia Non mi piace Siamo qua No Non state lì Ok Tanto è rinato Ecco che rinato Ok Poi sono Terza posizione Per favore Un minuto 3 3 3 Dai Terza posizione Terza posizione Oh bellissima No dai Quarti No basta I tuoni qua Mamma mia Terzi No Anzi quarti Scusate Mamma mia No Sto partendo tutte le coppe Vabbè dai raga Va niente Andiamo in rapina Ultimo partito Sola rapina Sì Ultimo Ultimissimo Vediamo Una rosa C'è qualcosa Che dà Molto fastidio Ok Andiamo Ottima squadra Ottimissima squadra Vado sempre da questa parte Vado Da questa parte Vado Da questa parte Allora Ci stanno facendo abbastanza danno Io sto qua Per ora Tu difendi loro Vado in attacco Cioè loro attacca No no Neanche un po' Tutti quanti dietro Sì che sto facendo Danno Attenzione Danno mai Va giù Però dai Raga Tutti Madonna Non si può Non si può È impossibile È finito È finito È già È già finito Ormai Non so che fare Non so che fare Non so che fare Vai là però Dai Dai Ecco Vai dai Va bene L'ultima gioia Vi deve regalare Non lo devo stare L'ultima gioia Addirittura L'ultima gioia Vi deve regalare Bisogna solo Che fa una rimontata Incredibile Oh ma nessuno Madonna 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 Almeno questa balla di difesa No 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 Meno 4 Meno 4 No Facciamo l'ultima Sopravvivenza Non so L'ultima partita Pure in singola Ce la facciamo Siamo a scegli Andiamo Ma Vorrei recuperare Tutte le copie Non tutte Non tutte però E' pure colpa degli altri Che non è che giocavano Cioè rimanevano lì e così Vabbè Hanno contribuito vabbè Però non tanto Non è che hanno fatto qualcosa Quindi raga 7 mi piace 7 like Tutti qua tutti Li voglio vedere proprio Allora sono 7 e sto al più 0 Stai col più 0 Quindi stai tranquillo Tranquillissimo Vai tranquillo Allora tu campera un altro po' Non voglio camperare Eh lo so però Poi addirittura pochi power up Addirittura ora andando ma dove non è che ok faccio che parli non c'è bravissimo berrile opposto adesso tu bene all'attacco per attacco attenzione c'è un buio d'ora pure buono non riusciremo a fare qualcosa dovresti puoi raccogli ma che ca ma che ca c'è un'altra partita ho avuto il sito ecco ci facciamo un chiesto di gioco appoggiunti ancora il senale ci facciamo l'ultimo ultimo partito vediamo se riesce pari.it ho fatto con le piccole coppia c'è quelle tante coppia con il bravo e con me con le tante ma questa cosa vabbè poverina rosa poverino guarda posto conto il punto di vista non so ci sono anche persone che si stanno ferma non so perchè ma c'è da un esempio di troppo ci si stanno parlando tipo scegliere buonanotte arrivano gli altri ma ora dopo un po' si riprendono bambino con il caso il caos di posto di posto di posto di posto un bellissimo la scuola più uno più uno più uno più uno più uno no più zero vediamo un attimo e per l'altro sono 11 minuti e fatto l'altro diciamoci l'ultimo l'ultimo vediamo almeno più una coppa una coppa io ci provo ora non è più come prima c'è come rosa prima però io non non sai cosa che non devo la cosa che sbaglio non è questo però la cosa che sbaglio è andare vicino ai trawler non è che andare vicino attaccare subito la grinta che ho la la grinta di voler di voler forse sarà il maltempo che ti fa perdere coppe me lo lascio no vedere come mi fa un troppo forse sarà il maltempo che ti fa perdere coppe se non mi ricordo non so perché vabbè comunque si sei coppa va bene e più sei coppa di prima raga allora spero questo video vi sia piaciuto come al solito se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e scrivete qua sotto nei commenti e che dire da me è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale dark pork e anche su eeeh eeeh se non lo trovate i due fratelli gigi e che dire da me è tutto ciao